Buongiorno dal Parlamento Europeo, Tiziana Beghin del 5 Stelle, Nicola Danti del Partito Democratico Socialisti e Democratici Europei e Salvatore Cicu di Forza Italia del Partito Popolare Europeo, parliamo del TTP, l'accordo commerciale con gli Stati Uniti d'America che la Commissione sta trattando ormai da due anni, ci sono stati otto incontri con questo accordo che dovrebbe creare l'area di libero scambio più grande del mondo, 800 milioni di cittadini coinvolti. Salvatore Cicu, a che punto siamo? Siamo all'inizio di un percorso, dopo due anni, perché il tema è importante, il tema è globale, il tema coinvolge due aree che ricoprono oltre la metà della politica commerciale internazionale ed è importante anche e soprattutto rispetto a una situazione che riguarda gli Stati Uniti d'America, cioè la loro priorità non è certamente oggi l'Europa, la loro priorità è il mercato asiatico, quindi a mio giudizio dobbiamo lavorare meglio e di più per approfondire, per verificare, per stabilire una reciprocità logicamente di vantaggi e soprattutto delle regole che diano trasparenza, sicurezza, capacità di dare ai nostri cittadini, alle nostre comunità un ritorno, un riscontro che sia solo ed esclusivamente di vantaggio e non di danno. Danti, si parla di trasparenza, è una parola importante perché fino a pochi mesi fa di trasparenza ce n'era poco, quantomeno i parlamentari non erano al corrente i risultati di questo incontro tra le due commissioni, quella dell'europea e quella americana, prima di tranne i contenuti parliamo perché c'era un problema di trasparenza e come è stato superato? Intanto questo è stato uno dei danni enormi che è stato fatto nell'approccio al TTIP, perché la mancanza di trasparenza ha portato disinformazione, ha portato ad alimentare voci nell'opinione pubblica e sono smentite dai fatti, in primo luogo dal mandato negoziale perché tutti i negoziati si svolgono con un mandato preciso che grazie all'Italia è stato desecretato nei mesi scorsi durante la presidenza italiana e che è chiaro su molti punti che invece allarmano i cittadini, quindi da questo punto di vista noi abbiamo chiesto e chiediamo e c'è stato un cambio molto deciso anche da parte della nuova commissione perché la nuova commissione sta dando l'opportunità ai parlamentari europei di verificare l'andamento dei negoziati, sta dando la possibilità, sta informando regolarmente il Parlamento europeo dell'andamento dei negoziati, ha messo a disposizione i documenti che sono in discussione e la trasparenza è stata una delle grandi vittorie del semestre italiano che ha posto questo come priorità. Faccio un esempio molto concreto per far capire a chi ci ascolta, noi abbiamo un principio essenziale nell'Europa che si chiama principio di precauzione, questo è ben chiaro nel mandato negoziale, chi va a trattare per l'Europa non può derogare da questo principio che vuol dire anche la tutela dei cittadini, dei consumatori rispetto a tanti argomenti che poi magari analizzeremo in dettaglio. Reghini, sono tutelati i consumatori, c'è questa trasparenza? Non c'è una vera trasparenza nel TTIP, il mandato negoziale in realtà esisteva in versione lì che già da più di un anno lo conoscevamo tutti e sappiamo perfettamente che non ci tutela, non ci tutela come non ci tutela nessun mandato, è poi nel dettaglio che si va a vedere che cosa vengono effettivamente discusse e fatte le cose. Se effettivamente il principio di precauzione sarà rispettato e sarebbe rispettato, onestamente mi chiedo quale sia l'interesse delle oltre 75 multinazionali che stanno aiutando i negoziatori in questa fase appunto piuttosto lunga e che stanno facendo un esercizio di lobbying nei nostri confronti molto molto grande, quindi l'interesse dei cittadini in questo momento non mi sembra assolutamente tutelato e non mi sembra tutelato soprattutto nella informazione che non viene fatta sulle conseguenze che avrà sulla loro vita il TTIP, mi chiedo veramente come possiamo armonizzare due sistemi che sono non diversi, sono contrapposti. Ecco allora, parliamo di contenuti, concretezza, vantaggi e eventuali svantaggi di questo TTIP. Faccio un esempio, noi sappiamo cos'è l'Italian Sounding, sappiamo che è tutto l'italiano taroccato che viene prodotto negli Stati Uniti, beh quel taroccato anno produce 24 miliardi di euro, il nostro Made In realizza 3 miliardi di euro, quindi da 24 a 3 miliardi, è evidente che è inserirsi in una nicchia di mercato così imponente, dove tu puoi finalmente rappresentare il riconoscimento di identità geografiche e quindi di indicazioni che tutelino l'origine e la trasparenza in questo, di realizzare la condizione che il nostro prodotto sia poi non solo trasferito in un contesto così di dimensioni eccezionali, ma sia garantito e tutelato per quella che è la sua origine, è evidente che tutto questo viene visto con favore perché nella reciprocità, nell'automatismo, così come è venuto anche con l'accordo col Canada, così come dovrebbe avvenire con l'accordo col Giappone, si realizza la condizione di far permanere l'Italian Sounding, ma di avere una certificazione di riconoscimento del Made In, quindi è evidente che ci sarà una diversificazione di consumatori, c'è chi continuerà a comprare il taroccato e c'è chi invece comprerà i nostri migliori prodotti, è evidente che in questo noi abbiamo un interesse straordinario. Danti, compreranno più i nostri prodotti, ma anche noi potremmo comprare più prodotti americani, c'è chi dice che non sono controllati come quelli europei, è un'obiezione valida? Non è un valido in senso assoluto questa affermazione, noi sappiamo che ci sono barriere non tariffari importanti, diverse, perché abbiamo regolamenti diversi, ma non tutti i regolamenti europei garantiscono maggiormente i consumatori rispetto a quelli americani, in molte parti i regolamenti europei tutelano maggiormente i consumatori e noi lo sappiamo, in altre parti i regolamenti americani sono molto più avanzati di quelli europei, allora io penso che questo TTIP sarà buono se noi saremo in grado di portare sul tavolo alcune proposte, prima di tutto il riconoscimento delle indicazioni geografiche, poi sicuramente l'abbattimento dei dazi, perché noi stiamo oggi pagando sui settori trainanti dell'export italiano in America, soprattutto il tessile e l'abbigliamento dazi doganali superiori al 15%, mentre altri settori no, noi paghiamo più di altri settori nei settori strategici per il nostro Paese, sarà buono o cattivo se porteremo a casa questi risultati e saremo in grado di prendere gli standard che tutelano maggiormente i consumatori delle due parti, credo che questa sia la sfida, che è una sfida culturale, che è la sfida dei due più grandi mercati del mondo, che insieme possono costruire un mercato più grande che non ha obiettivi a ribasso ma obiettivi a rialzo, sono tutti favorevoli no? Sì, sono tutti un po' favorevoli con delle argomentazioni piuttosto deboli dal mio punto di vista, intanto parlare di aziende che commerciano con gli Stati Uniti, io sono sempre stata molto d'accordo e ho sempre detto effettivamente che le aziende che già stanno commerciando negli Stati Uniti avranno innegabilmente dei benefici, perché non parliamo invece dei pericoli di avere la competizione a casa nostra, l'abbattimento degli standard che è esattamente quello che vogliono gli Stati Uniti, prima di tutto, e poi difendere onestamente le aziende agroalimentari italiane, quando con Expo mettiamo come testimonia McDonald e la Coca Cola, voglio dire, è un po' come se avessimo Erode che fa da testimonia all'Unicef, però anche sull'Italian Sounding effettivamente forse noi venderemo e già stiamo vendendo negli Stati Uniti una bottiglia di vino su tre è italiana già oggi negli Stati Uniti, quello che noi invece rischiamo di fare è di aprire indiscriminatamente il commercio in Italia alle aziende americane molto più forti di noi, molto più competenti, con delle condizioni interne e economiche che le rendono decisamente molto più aggressive delle nostre. Sono i dati, crollerà il commercio del 40% in Europa, questi sono dati dalla Commissione Europea, avremo 1 milione e 300 mila posti di lavoro in meno, sono dati della Commissione Europea, su questo onestamente dobbiamo riflettere molto. Avremo modo di riparnarne, appunto il trattato dovrebbe concludersi entro due anni, quindi ci saranno altre occasioni per parlarne, per ora la linea Roma grazie ai nostri ospiti. Grazie a tutti.